Qualcuno mi ha detto che sei mia sorella e che mi segui di tre anni meno un giorno, per il resto, per tutto quanto, sono io che seguo te, che cerco di starti dietro o almeno di fianco, non troppo distante, non certo brillante, con questi mille chilometri compressi nei messaggi vocali del mattino, nelle cose che ti domando di tuo figlio, nelle cose che non ti domando che tanto le sappiamo e ci diciamo altro. Che fai sabato sera, dico io, di solito, e tu a me sei in treno? Ecco, due domande che sembrerebbero poco, ma che per noi sono tutto quanto. Qualcuno mi ha detto che sei mia sorella e io gli credo ed è una vita che ti somiglio, ma non perfettamente che essere uguali non servirebbe a niente.